Buonasera, abbiamo due ospiti con noi, Dimitri Buffa che è un giornalista, scrive sull'opinione il giornale di Piazionale ed è anche un militante radicale, è Annerita Di Giorgio, anch'essa militante radicale, Dimitri Buffa da Roma, Annerita Di Giorgio sta in Puglia, Annerita attiva molto sul web e possiamo leggere anche su un blog che si chiama Ribernazione se non sbaglio, giusto Annerita? Giusto. Perfetto, fatte le rapide presentazioni, abbiamo una mezz'oretta più o meno, per fare qualche considerazione abbastanza generale, ma neanche tanto, più che generale è conclusiva su questa campagna elettorale che fa concludersi, una campagna elettorale che ha visto in qualche modo scendere o salire a seconda delle opinioni in campo, partendo così tanto uno spunto per il dibattito, il Presidente del Consiglio che in qualche modo da tecnico, se il tecnico era, si è comunque dovuto consacrare alla politica totale, perché insomma scendendo o salendo nella campagna elettorale ha dovuto fare il politico e essere politico. Ecco, come vi è sembrata questa trasformazione, se si tratta di trasformazione? Annerita il video ci sta a partire appunto con te, a te la parola. Guarda, oggi ci riflettevo pensando al fatto che comunque abbiamo un senatore a vita che si candida praticamente alla Presidenza del Consiglio, che è capo della coalizione, ci sono state altre volte, è successo, però in effetti è molto strano, proprio perché al di là di Monti, governo tecnico e tutto il resto, però la cosa grave secondo me è proprio il fatto che lui fosse senatore a vita, per cui va un po' a inficiare questo ruolo, credo che poi Pannella non lo faranno mai senatore a vita, questi sono i loro standard. Per cui sì, ecco, magari non ci pensiamo più a oggi che andiamo a votare, a tutto quello che è successo in questi anni, come magari non ci pensiamo a tutto quello che è stata la storia di Berlusconi, di Ruby Gate e tutto il resto, come siamo arrivati a questo punto, come se ci fosse stata una tabula rasa e una campagna elettorale morta in cui, ecco quello che dicono i radicali, la partito grazie al fatto che sono tutte la stessa gamba del regime, che tra di loro si sono voluti bene, diciamo così, in questa campagna elettorale, non si sono attaccati, sono stati tutti abbastanza sereni e questo insomma, hanno tutti quanti dimenticato il passato, quello che erano. Ok, Dimitri a te, come ti è sembrata la cosa? Guarda, io ho scritto più volte che questa era una campagna elettorale da film dell'orrore, perché avendone vissute un'altra, un minimo 7-8 da persona maggiorenne, cioè dal 78 a oggi pertanto per capirsi e avendo potuto constatare la demagogia della partitocrazia sia della prima che della seconda Repubblica, che nelle varie fasi di transizione dopo il sequestro Moro, anche prima perché comunque avevo 17 anni, una merda simile non era mai capitata, ma era esattamente lo specchio di quello che è ridotto il paese, la cosiddetta peste italiana. In effetti le idee nuove che da tanto tempo Pannella cerca di fare entrare in qualche maniera, ora hanno trovato questo nuovo cavallo di troie che è Beppe Grillo, che però le veicola in maniera un po' a volte anche pericolosa, poi non sono esattamente coincidenti, ma ce ne sono alcune, soprattutto per quello che può riguardare la generazione di internet, anche la legalizzazione delle droghe di cui lui ha parlato, una serie di cose che sono condivisibili, anche un rapporto diverso tra la burocrazia, soprattutto quella fiscale e il cittadino, cosa che ci avrebbe legato in qualche maniera pure alla lista di Giannino che poi ha avuto questa finale a sorpresa, anche se io comincio a pensare che sia stato congegnato a mo' di gioco delle parti perché gli ha dato talmente tanta visibilità mediatica che chissà che poi la gente non lo voti per davvero, perché certo è difficile credere che una persona del suo livello possa soffrire di un complesso di inferiorità tale che lo porta a mentire come una escort di Berlusconi, di quelle che se ne compra i master falsi, perché poi alla fine, parliamoci chiaro, anche i master più prestigiosi sono delle lauree a pagamento, che se tu vai al boot di Chicago del Zingales che sei già laureato, butti lì 25 mila dollari, il master te lo prendi a meno che non sei un cerebroleso, per cui uno come Giannino è esattamente, lui si doveva fare un vanto di non avere un titolo di studio, come posso farmene un vanto pure io che non ho un titolo di studio ma ho una preparazione in vari settori che non è proprio da buttare via, la gente invece ha spesso il titolo di studio e poi sotto il titolo niente, praticamente vi do la notizia che sta iniziando a parlare Grillo, che potrebbe non essere… E tu non hai parlato, io non ho seguito, chi ha parlato se non parla Grillo là? Hanno parlato della rock star della politica, tutti i gruppi d'appoggio, che devo dire che erano delle spalle anche un po' noiosette, è come sentire prima dei Rolling Stones una cinquantina di X Factor, sai che palle? Diciamo che è servito un pochino per far riempire la piazza, per dare il tempo per far riempire la piazza, in qualche modo non ho paura… No vabbè perché comunque è veramente un punto interrogativo, secondo me davvero stiamo andando a votare Grillo, chi ci andrà ovviamente, che non è candidato però non si sa nulla di di tutti gli altri, è veramente un rischio credo, ci avremmo penso più venduti… Ma guarda non c'è un rischio di continuare a votare per Lusconi… No, io penso che sia l'unico segnale possibile da dare in una… io per esempio mi sono fatto questa idea, voto alla Camera Pannella, poi voto Pannella, di nuovo c'è la lista Amnistia Giustizia e Libertà, anche alla Regione Lazio perché là se non riesce a raccogliere manco lì vuol dire che c'è qualche problema di cortocircuito comunicativo, però al Senato per esempio voto Grillo perché tanto al Senato la lista Bonino Pannella, manco se le meteoriti riesce a fare un quorum dell'8%, per cui mi faccio il voto utile per me stesso e siccome io voglio fargli saltare in aria tutto sotto il culo a questa gente, uso pure Grillo, Grillo è un taxi. Allora, la tematica del taxi è una tematica abbastanza che è stata suscitata gioie e dolori in qualche modo, soprattutto in ambito radicale di recente, una cosa volevo rubandola da una considerazione di Mentana, giustamente va riconosciuto, che in questa campagna elettorale aprendo appunto il Tg della Sette, faceva una considerazione anche lui un pochino abbastanza così riassuntiva sulla campagna elettorale e diceva che questa è stata una campagna elettorale dove non ci sono stati confronti. I candidati premier nessuno ha sentito che era opportuno confrontarsi e noi venivamo in qualche modo anche dall'esperienza che abbiamo seguito, in qualche modo delle primarie del PD e del centro-sinistra, qui c'era stato un confronto, c'era stata una cosa organizzata per avere un po' di dibattito e mettere a confronto anche i programmi. Questa scelta mediatica, visto che Dimitri poi aveva un pochino introdotto il tema della comunicazione, come vi è sembrata? Il confronto non c'è stato perché il confronto ci poteva essere solo su Sky o sulla Sette, che sono delle TV che comunque sia, anche se adesso cominciano ad avere una grossa audience, soprattutto Sky comunque ci devi anche abbonare perché in chiaro ci sta solo Sky Tg, non sono né da Rai né Mediaset. Mediaset, se ve ne siete accorti, è praticamente morta e credo che dopo queste elezioni comunque vadano, se la strategia industriale di Berlusconi rimarrà questa, dovete fare l'esercito dietro di me, dureranno pochissimo perché il mercato li penalizzerà. La Rai è quello che è, è una fonte di privilegio, la Rai è come il Consiglio regionale del Lazio dove ci stanno questi figli di puttana che si prendono i soldi sul loro conto corrente, che ci fanno quello che gli pare, è la stessa cosa. Una cosa che mi spinge a votare per esempio Grillo al Senato, a spiegarmi comunque che Grillo abbia un discreto successo, è proprio che se non è questa la volta che chiudono la Rai per sempre, che chiudono tutta una serie di pastoie di tipo assistenzialista o burocratico pure a livello giornalistico, anche se io ci ho vissuto in queste realtà, ma le ho viste tutte fallire, perché i soldi pubblici la gente se li ruba, perché i giornali assistenti si rubano i soldi, non pagano gli stipendi ai dipendenti e poi quando tutto finisce in vacca, riederci e grazie, fallisce la cooperativa o fallisce un giornale, non gliene frega niente, i sindacati sono complici, quindi a questo punto se questi soldi servono per stare sul mercato o se è una convenzione come Radio Radicale va bene, ma se deve essere una cosa dove ci vanno a postare i figli di mignotta, allora sai che ti dico, morissero tutti. Quindi ormai siamo su questo livello, non è che possiamo far finta di non starci, io sono una persona che per esempio sono senza lavoro, sono un cazzo di disoccupato, più o meno di lusso ancora per un annetto perché ho un'indennità di disoccupazione, che poi comunque non è che sia così lussosa perché è appena sopra i 1000 Euro al mese, io non posso più mantenere fra poco un certo tenore di vita, ma se quelli come me faticano, potete pensare a quanti altri faticano in questo settore per esempio? Siamo in due Dimitri, a te la parola Anna Siamo in due milioni, lo sai che la FNSI non c'ha più manco la lista di disoccupati da proporre alle aziende, ormai ci ha semplicemente rinunciato. No no no, io dicevo in due qua, non so qual è la situazione di Anna Rita, spero sia migliore, ma siamo in due, a te Anna Rita No vabbè la situazione è comune a tanti, in effetti ha ragione Dimitri, però no ecco io non sono d'accordo sul fatto di Mentana che quest'anno si è messo a fare in questa campagna elettorale il paladino della democrazia, io l'ho sentito a ogni istanto TG iniziare non dobbiamo dare lo spazio soltanto ai grandi, ci sono anche i piccoli, noi dobbiamo fare siamo democratici, democrazia per tutti, informazione libera e quindi c'è anche Giannino è lì 5 minuti per Giannino, ha fatto questo confronto come l'ha chiamato lì queste due sere con i 6 candidati, ma perché sono 6 candidati? Si è scordato, completamente radicali, i candidati non sono 6, ma Giannino l'ha chiamato perché è amico suo? Parlavo sei chiaro? Oh ma Mentana sapete come è diventato giornalista di prestigio? Grazie a Martelli che l'ha messo nella RAI a suo tempo, Giannino è un suo amico, è un loro amico, master e comando! Si 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 no, tra Giannino e Grillo, Mentana capito? Si vantava di essere quello che dava spazio alla, insomma anche i candidati di loro, diciamo ieri il mio twister, il mio twister come lo chiama Pannella è testimone del fatto che ogni santa sera gli rispondevo si ok, radicali, radicali, da ultimo ieri sera, di nuovo ieri sera ha introdotto dicendo diamo spazio a tutti, i 6 candidati, Grillo non è venuto per cui gli facciamo, mandiamo il suo comizio perché comunque noi siamo democratici e quindi dobbiamo dare spazio a tutti, ma tutti i quali, cioè perché l'ha deciso lui e sono 6 candidati? Da dove sei riuscito? Quindi purtroppo tutta l'Italia saprà che i candidati sono 6 e che Mentana è il paladino anche dei piccoli. E quindi insomma diciamo una convenzione scudente. Ma sono tutti finti i paladini? Sì no, ma infatti per questo ti dico, cioè per assurdo la RAI è quella che si è comportata meglio perché perlomeno Pannella, RAI 2 nelle tribune elettorali, quelle pubbliche, insomma ufficiali come si chiama. E quelle che ci sono voluti 4 anni che fagliere fare? Eh sì, ho capito, ma gli altri fanno ancora peggio, cioè nelle tv locali e private c'è veramente carne da macello. Sono in mano all'industrialotto che c'ha lo smorso a Vellidri che vende mattoni la mattina e la sera si mette là a devirare e quelle sono le tv private, eh? Ma una cosa volevo anche chiedervi, no se è in realtà devi concludere, ma tu ti vorrei. No no, quindi questo, tu chiedevi del confronto che non c'è stato, ma voglio dire, ma non è quello, cioè non è che la gente decide in base al confronto, li senti, quando io, almeno a me quella che c'è stata per le primarie, mi sembravano tutti uguali, non riuscivo a capire la differenza delle risposte tra uno e l'altro, per cui no, non è quello, invece è appunto lo spazio nei telegiornali, soprattutto nei programmi di infotainment, come vengono trattate le informazioni, come vengono trattati i candidati, non credo che sia mancato un confronto, perché comunque le abbiamo, io Monti me lo sogno una notte, lo vedo ovunque, ogni volta che accendo la tv c'è Monti, non è possibile. Io infatti parlavo un pochino, recuperando anche quello che poi è anche la tematica un po' pannelliana della nostalgia per le vecchie tribune politiche, no? No, senti, quei direi non si dovevano vedere, erano di una noia mortale, me ne metti pure quanto saprevo. Ci stava anche Jacobelli che non è che aiutasse tanto, ma comunque si era un professionista, però quello che volevo dire è che comunque sia i leader stavano lì e si fronteggiavano uno con l'altro, i leader proprio, insomma. Invece in questo caso sembra che non ci sia stato, poi si incontrano in qualche modo o negli studi del insieme. Ma no, ma si incontrano ovunque, erano dappertutto, cioè voglio dire, da Gruber al TG della Sette ce n'era ogni sera uno lì presente, è davvero che sono mancati radicali, sono mancati radicali, ma gli altri erano dappertutto. Dimitri che ne pensi? Pronto? Mi senti? Dai vai Dimitri. Ma sempre rispetto al confronto, è impossibile fare dei confronti tra delle persone che hanno dei compartimenti stagni attraverso i quali propagandano i loro slogan che travestono da programmi elettorali. E questo è il caso pure di Monti. Guarda che Monti è stata una grandissima delusione, sia per l'incoerenza, sia per questa stupida aggressività che fa di lui una specie di Berlusconi più elegante e che non tocca al culo alle signore. Ma da quando c'è il cagnolino è diventato buono. Ma no, perché lui alterna questa cosa di di carota e bastone probabilmente perché c'è uno spin doctor del cazzo che gli racconta stronzate. La cosa del cagnolino è una cosa patetica, però è patetico pure che una giornalista gli fornisca un assist che sorrida con lui come se dopo ci stesse per andare a letto. Se il giornalismo italiano fa così, ma che cosa vi volete aspettare? Ma che li facciamo a fare questi confronti? Ma voi li avete visti i confronti di Obama con McCain oppure di Obama con quest'ultimo che c'è stato? Sono cose un po' diverse, ma l'avete visti i giornalisti che domande fanno ai presidenti? Guarda che i giornalisti italiani non vengono trattati come quello che Rosy Bindi non lo voleva fare salire sul palco ieri, quello di Report. Accettare questo… No, ma infatti anche rispetto alla storia di oggi pomeriggio di Grillo che non ha fatto salire i giornalisti, ho detto ma ha fatto bene, cioè meno male, perché alla fine andavano là per vedersi lo spettacolo in prima fila, mica per fargli le domande, non glielo hanno fatto, in 5 anni tutto stasera gli devono fare le domande. Anche questo è una chiave di lettura, sì. Sì, però io penso, il fatto del confronto, quando parlo del confronto parlo della compresenza di più persone, poi è vero che la monopolizzazione purtroppo dei leader maggiori c'è stata, ma parlavamo ovviamente di questa lista Ministra di Giustizia e Libertà, che in qualche modo è stata emarginata, come sempre, nei radicali siamo abbastanza abituati a questa prassi. I radicali sono i figli della serva della politica, non c'è niente da fare. Però è appunto quello che volevo chiedervi, secondo voi da un punto di vista, per tutta la vicenda preelettorale che parte verso fine novembre, abbiamo in qualche modo agevolato come radicali questa sorta di convenza e di escludendum, oppure siamo esenti da qualsiasi tipo di gol? No, guardi, i radicali hanno una tattica di gioco, se si potesse fare il solito paragone calcistico, che non funziona, non c'è niente da fare, si beccano un sacco di gol e si fanno troppi passaggi tra centrocampo e attacco prima di fare un tiro in porta, mettila così. Non c'è niente da fare. A noi proprio la tattica comunicativa di Grillo ci dovrebbe insegnare qualcosa, il problema è che andava fatto anche un po' prima, perché non sono più i gesti drammatici, gli scioperi della fame e della sete, vanno benissimo per un filosofo, va benissimo un filosofo che continua a essere il grande filosofo inascoltato o poco ascoltato della vita sociale italiana, ma non porta un cazzo di voto, potrebbe portare qualche voto la storia di Rosso di Vita, perché quella è stata comunicata molto bene, ci sono stati gli articoli di Rizzo e Stella e infatti non a caso lì c'è stata la vera convenza d'excludendum, perché Zingaretti mica è matto che si metteva sti tu cavalli di Troia dentro la coalizione e Storace che è furbo ha subito fatto lo pseudo Voltaire italiano dicendo vi voglio lì dentro a farmi la opposizione, in realtà sapendo che la cosa sarebbe stata di difficile praticabilità, che sarebbero insorti gli antifascisti o i fascisti dell'antifascismo o quelli che come quando uno indica la luna vedono il dito e sapendo che la cosa anche tecnicamente era difficile, ma intanto lui ci ha fatto una bella figura e Zingaretti una figura di merda, il che fa sì che Zingaretti che stava sopra di 30 punti magari adesso gli dà la possibilità di aversi una piccola chance, perché diciamo pure la verità che quando uno si gioca a Storace che già ha avuto un passato che non è stato esaltante nella regione Lazio come amministrazione e come tutto, vuol dire che hanno deciso di non vincere. Anarita? Sì vabbè gli errori ci sono sempre, però questa volta credo che non si parli tanto di errori quanto proprio di mancanza di volontà, almeno dico dal momento delle firme in poi ecco, mancanza di volontà, mancanza di voglia di affrontare una campagna elettorale, non è stata fatta, insomma io… Certo, con 20 mila Euro in cassa… No, ma non è solo una questione economica, non è solo quello, proprio di presenza, dopo due settimane che erano state raccolte le firme, io vedevo che ancora si stava là a discute, ma là in Piemonte perché non avete preso tu questo e tu quello, io ho detto scusate, ma dove le abbiamo prese? Che cosa facciamo? Non si è visto nulla, ho visto molta più attenzione, ora magari regione Lazio, continuiamo a parlare della regione Lazio, però tutti se ne strafregavano di quello che c'era nel resto d'Italia, per carità Pannella oggi è andata all'Atronico, doveva fare la marchetta a Bolognetti, ok, però voglio dire che cosa ci serviva. Non c'è più un partito radicale in quanto tale, non c'è più, c'è un partito transnazionale e ci sono tutte queste realtà di galassia che vanno benissimo, però vanno benissimo se producono soldi iscritti, altrimenti diventano quelli che chiamavano i rimborsisti rimborsati. Sì, ma anche quelli che ci sono non hanno fatto niente, non c'è proprio stata, ma non c'è proprio una riunione a livello per dire no, a me è arrivata una risposta, durante il sabato di Sanremo finale alle 11 di sera mi arriva Neemil del partitore radicale per fare la riunione lunedì pomeriggio sul Lazio, con tutto il rispetto, ho messo a fare campagna in Puglia nazionale e tu mi mandi Neemil per il Lazio, per le regionali, perché comunque non avendo raggiunto le firme dappertutto si è lasciato che tutto andasse in bacca così, quando invece secondo me era importante comunque lottare, ma per dire la cosa più stupida, Mentana che ti fa una cosa del genere, cavolo ce li fai no, la campagna contro Mentana che invita tutti tranne te, per dire la più scema che secondo me non sono così campagne elettorali, però gli altri anni ne prendiamo così, facciamo questa, invece niente, è stato fatto nulla di nulla. Sì, ma i giovani radicali, i giovani militanti che sono pure tutta gente molto più preparata da questi grillini medi che ho visto parlare, gente come so, come Annalisa De Chirico, come era Giulia Innocensi prima di svoltare perché ha trovato Santoro, così ha risolto i suoi problemi esistenziali ed economici e tante altre persone, pure forse il sottoscritto o qualcun altro, siamo della gente che campiamo come dei barboni e fare politica in questa maniera non esiste, perché non si può più fare come si faceva nella prima Repubblica in cui il Partito Radicale era un partito che con un sistema proporzionale poteva arrivare a mettere quattro persone nel Parlamento e un gran casino. Noi ci siamo riusciti questa ultima volta aggregandoci al Partito Democratico in quella maniera lì che comunque ci ha trattato come dei servi e che si è guardato bene, visto che la Bernardini è stata la più brava delle deputate del Partito Democratico, quella che ha fatto la più attività, nessuno di loro li vogliono, quindi come grillo parlante non entri, il tuo partito non esiste più, non ha una struttura, non ha i soldi, ci illudiamo ancora che con questa continua chiamata alla mobilitazione di Pannella si possa ottenere più di mille iscritti, ma è già un miracolo, la Bonino si è proprio defilata, la Bonino va solamente ai convegni con D'Alema, con Giuliano Amato, in Europa coltiva la sua figura istituzionale, può essere pure che la fanno Presidente della Repubblica, ma a me sembra che non gliene freghi più un cazzo dell'organizzazione e i boniniani, i vari, come si chiamano quell'altro lì, i senatori per Duca, così è, meccacci, fanno la Bonino in sedicesimo, quindi il partito ha anche un po' una spaccatura di visione, se poi queste cose ce le vogliamo nascondere perché vogliamo continuare a dire che siamo comunque sempre i migliori come idee e come buona fede va bene, però qui non si alza anch'io, comunque dobbiamo anche ricordare giustamente, come lo ricordiamo per gli altri, che abbiamo avuto anche il nostro candidato arrestato in Calabria, che certo non ha aiutato, non aiuta molto questa… Vabbè, ma quello manco il filo di gioco, vabbè Porazzo, ma che stiamo facendo le canne questo, che chissene freglie, è proprio il fatto che non si sa chi sia che non capisco perché era candidato. Insomma, anche quello è un'istoria. Ma no, ma non è che non sappiamo… dai, non è questo certo il motivo per cui… No, 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 per carità, però insomma non è che non è gevole, ecco, insomma… Ma no, guarda, anzi ti dirò che a noi se ci fosse capitato un episodio con la Giannino, una cazzata del genere, può essere che ce la vi abbia qualche voto in più e io ritengo infatti che Giannino l'abbia fatto apposta. E questo lo vedremo a breve, perché tanto insomma ormai ci siamo. Siamo ormai addirittura d'arrivo, vorrei fare un'altra domanda. Nello tsunami che abbiamo, tanto per mutuare una terminologia grillina, ma neanche tanto, perché non è che l'ha inventata lui, ma comunque, nelle tante proposte e promesse che abbiamo sentito, quella che politicamente secondo noi è quella proprio più ripugnante, che non si può sentire, ecco, tanto per dirla. Qual è stata? Dimitri, a te. Guarda, per me tutto sommato sono le stronzate come la patrimoniale per chi abbia dei beni immobili sopra al valore castastale di un milione e duecentomila euro, perché andrebbe a colpire un sacco di ceto medio di gente che magari ha avuto uno stipendio, ha avuto l'unico cosa che aveva avuto uno stipendio di due o tre mila euro nella sua vita o di quattro o cinque milioni che erano all'epoca, di essere messo tutto da parte e che oggi paga già a Deimu magari quattro o cinque mila euro l'anno e che tu gli va a qualche altra cosa. Ma queste sono ricette del cazzo. Il problema è che le ricette giuste ce le avrebbe tutto sommato Berlusconi e gliele sta copiando pure Grillo, guarda caso che ora si sta più a tutto l'elettorato di destra, solo che una cosa detta da Berlusconi fa vomitare per antonomasia, perché non le deve di lui, anzi porta pure Iella a quelle idee, perché lui non è che ha distrutto solamente un'idea liberale che semmai ci fosse stata, lui ha distrutto delle cose sacrosante, questo paese deve portare le tasse al 25% per tutti e rendere tutto detraibile e così emerge il sommerso. Poi noi potremmo pure discettare su delle cose come ha fatto per esempio Schwarzenegger, mi parebbe giusto in Italia se legalizzassimo la marijuana terapeutica intanto di fare quella ricreativa, potremmo fare come lo Stato del Colorado dove la mafia è scomparsa da quel settore e sono nati dei industriali che con controllo statale hanno ripreso a coltivare i campi a canapa, in Italia riprenderebbe l'agricoltura, per me tassando queste cose e aprendole ai privati ci sarebbe un input di soldi pazzesco, per esempio questa è un'idea da veicolare ma proprio imprenditoriale, non per il problema della droga che ormai chi se ne frega, chi da tutto sommato servirebbe a curare un sacco di gente e sarebbe un income enorme, enorme, è una cosa da potenziali 7 milioni di consumatori legali che potrebbero venire alla luce senza nascondersi nel cesso dell'ufficio, per me per esempio questa è una cosa, è una proposta liberale. Anna Rita invece, la cosa più impromovibile che hai sentito te? Da Grillo dici? No, no da Grillo, in generale, abbiamo sentito tante insomma, sì infatti, ho l'elenco, beh da Grillo a me sinceramente tutta la retorica dell'incandidabilità, dei due mandati non mi appartiene, non è da lì insomma che giudichiamo la qualità dei parlamentari e tutti gli altri sì troppe troppe ne abbiamo sentite, concordo con Dimitri che è l'unico alla fine che ha un minimo, insomma a me meriterli da lì, ma io sono contenta, non è che dicono solo quello, proprio questa retorica del rigore è una cazzata, no? Cioè nel senso si può permettere di dirlo perché sa che non vince, però non ho il dubbio che non lo farebbe qualora vincesse. Prima di tutto sa di non vincere, quindi può promettere quello che gli pare, proprio se vincesse non riuscirebbe a farlo perché non ci è mai riuscito, però ciò non toglie che come tu non guardare quello che fa il prete, ma la sua predica potrebbe essere giusta, mettere il rigore, sentire parlare sempre di serietà, di nuove leggi anticorruzione che non servono un cazzo, la legge anticorruzione serve contro la corruzione come la legge antidroga serve contro la droga, sono proprio stronzate, per esempio quella di opporsi ai condoni è una cazzata, perché se fai il condone come l'amnistia serve per fare in qualche maniera disingolfare questa macchina pazzesca burocratica e poi dopo mettere nuove regole e le nuove regole potrebbero essere che non si sbattano le persone in galera per far fare la bella figura al maresciallo dei paesi per dire con la droga o con altre cazzate, una nuova regola sul fisco potrebbe essere quella che è inutile che mandi gli imbecilli lì a Cortina che poi quelli vanno a San Moritz, ma che cazzo è? Ma che leota all'evasione è? Ma vai da Agnelli che ha un miliardo in Lichtenstein e già si sapeva da tre anni e ogni tanto ritirano fuori questa notizia come nuova, ma fai l'accordo con la Svizzera, ma fai l'accordo con lo IOR, questi sono i soldi che devi far emergere, ma legalizza tutto e sottrae cose alla mafia, no io faccio la caccia all'idraulico e al maestro dei tennis, ma vaffanculo. Comunque per ricordare la cosa di prima, adesso c'è la Gruber che fa l'ultima puntata in chiusura prima delle elezioni con Renzi, la furba. Eh sì, perché Renzi insomma pare che sia un personaggio che è rimasto… Renzi è una figura che esce abbastanza pulita da questa campagna elettorale perché insomma ha dimostrato di mantenere quello che aveva promesso per quanto riguarda la collaborazione con Bersani. Io vi ringrazio… Eh ho capito, però vedi anche là, sono i ladri di Pisa, sono i ladri di Pisa, cioè sono così… Lui avrebbe collaborato con… qualcuno dice anche a Spetta che scorre il cadavere sul fiume con la prossima che si visita a poco tempo a questo Parlamento… Guarda, questo è vero, perché sta legislatura durerà un anno e mezzo al massimo e poi se il PD non si vuole suicidare di nuovo con la sua classe dirigente, si levano tutti dal cazzo e mettono Renzi e allora forse si ragiona. Ma chi si leva? Ma chi si leva? E se devono levare, perché sennò la sua volta daranno il 90% a Grillo, poi ci sarà il colpo del Stato, non lo so. No, guarda, io lo ripeto, secondo me avremo tante sorprese, questi saranno peggio dei deputati dell'Italia e dei valori, finiranno tutti con… No, non credo, io non credo a questo invece, su Libri TV dopo le elezioni faremo commenta… Sognatevela anche per l'oggetto, poi franno non ci vediamo… No, beh, è una cosa che sarebbe quasi normale scontata che fosse così, ma non credo che sarà così. Lo vedremo, e comunque su Libri TV ne riparleremo… Non al 100% perché l'Italia dei valori è stata così al 100%, saremo a vedere. Io vi ringrazio di questa collaborazione, di questa partecipazione, ovviamente ne parleremo dopo le elezioni, vedremo di organizzare anche un dibattito a quattro, che chiamiamo Libri al Pub, e vedremo un pochino di rimettere su una discussione sui risultati di queste elezioni. Senti, magari mi metto all'altra casa dove c'ho lo Skype con la telecamera, perché qui non so perché non… Vogliamo vedere. D'accordo, Dimitri, grazie ancora a Dimitri Buffa, a Narita Di Giorgio, alla lista di nuovo alla regia. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Grazie.